Rispetto a milanesi e romani, i napoletani si confermano i più favorevoli alla chiusura della città alle auto, soprattutto se sono residenti in una zona a traffico limitato. Ad attestarlo è un sondaggio della IPR Marketing, promosso dalla Fondazione Guccione e dall'Istituto Internazionale per il Consumo e l'Ambiente, che dal 20 al 24 settembre, in concomitanza con l'attivazione della ZTL nel centro antico, ha messo a confronto le opinioni dei cittadini di Milano, Roma e Napoli sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Mi fa molto piacere dire che proprio nella settimana in cui entrava in funzione la ZTL, il 75% dei cittadini, un campione rappresentativo, naturalmente scientifico, dice che è favorevole, anzi vorrebbe di più, vorrebbe più aree pedonali, più corsie riservate, più manutenzione stradale. Il 94% degli intervistati su un campione di 700 persone suggerisce un aumento delle corsie preferenziali, il 93% auspica una rete più efficiente del trasporto pubblico locale ed il 78% chiede che vengano realizzate piste ciclabili. Si accetta l'idea della ZTL e gli stessi residenti della ZTL pensano che addirittura il proprio territorio acquista in valore con la ZTL, quindi non solo in termini di mobilità ma anche in termini di qualità della vita. Tra le aspettative dei cittadini è anche i sistemi innovativi in alternativa all'uso delle auto, maggiori controlli e più sicurezza della rete stradale. Naturalmente noi siamo d'accordo con loro e stiamo veramente immaginando per l'anno prossimo tutta una serie di interventi perché Napoli deve recuperare terreno anche sulla sicurezza stradale e la manutenzione delle strade.